Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari, www.alcat.it Benvenuti gentili telespettatori al consueto appuntamento con la nostra informazione sportiva. Un saluto da Simone Togna, edizione davvero ricca di contenuti, quella odierna. Iniziamo con la nazionale di Antonio Conte che questa sera scenderà in campo a Aspalato in un match che si disputerà a porte chiuse. L'Italia cerca tre punti che potrebbero essere fondamentali per il cammino degli azzurri sulla strada dell'europeo francese del 2016. C'è tanto ottimismo nonostante le defezioni nella formazione dell'Italia. Tutti i dettagli quindi nel primo servizio della nostra informazione sportiva. Tutto pronto per l'ultimo impegno ufficiale dell'Italia allenata da Antonio Conte. La nazionale sarà impegnata a Aspalato contro la Croazia nell'importante sfida valevole per le qualificazioni agli europei che si terranno in Francia nel 2016. La settimana di preparazione è stata però più che mai travagliata, ricca di imprevisti e infortuni. I primi a lasciare il ritiro di Coverciano sono stati Simone Zazza e Andrea Barzagli, quest'ultimo sostituito da Francesco Acerbi del Sassuolo. I problemi per Antonio Conte però non si sono fermati ed anche Marco Verratti non è riuscito a recuperare dal problema al polpaccio che lo ha colpito nei giorni scorsi. A concludere l'elenco degli infortunati si è poi aggiunto Daniele De Rossi che ha subito una botta nell'allenamento del giovedì. Il citrocampista della Roma andrà comunque a Aspalato ma il suo nome non è tra i 23 convocati insieme a quelli di Matri, Bonaventura e Acerbi. Il tecnico croato Niko Kovac spera quindi di sfruttare i problemi fisici degli azzurri per blindare il primo posto nel gruppo H che al momento guida con due punti di vantaggio sulla squadra di Conte. L'Italia ha 11 punti in classifica e deve guardarsi anche le spalle della Norvegia a ferma 9 ma impegnata nella non impossibile sfida casalinga contro l'Arzebaigian. Apriamo adesso la ricca davvero pagina dedicata al calcio mercato questo perché Jackson Martinez è sempre più vicino al Milan. I dettagli nel servizio. Jackson Martinez, Milan, ci siamo. Manca poco per la chiusura definitiva della trattativa. 35 milioni di euro. Gagliani vorrebbe ottenere dal Porto un pagamento su base pluriennale. Difficile ma non impossibile. Intanto ha già raggiunto l'accordo con il calciatore per il suo ingaggio. Sarà di 3,5 milioni di euro netti all'anno su base quadrennale. Aspetto da non sottovalutare però è quello del pressing forte dell'Arsenal di Wenger sul giocatore. Comunque Luis Enrique Pompeo, agente di Jackson Martinez, parlando ad alcuni giornali portoghesi, ha voluto specificare che il suo assistito andrà a giocare in un grande club europeo e non appena verrà firmato il contratto ci sarà un comunicato. Dal Milan alla Juventus, Carlitos Tevez si allontana dalla vecchia signora. Su di lui è forte il pressing del Paris Saint-Germain, ma anche dell'Atletico Madrid del ciolo Diego Pablo Simeone che invece non ha nessuna intenzione di lasciare Torino e Alvaro Morata. Alvaro Morata non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, l'attaccante spagnolo dalla sede del ritiro della sua nazionale. Infatti è ribadito di trovarsi benissimo a Torino e pur conscio della possibilità di recompra della clausola di riacquisto a prezzo maggiorato del suo cartellino da parte del Real Madrid ha voluto poi sottolineare al partito della sdose di cadena coppe come quello appena trascorso non sia stato il suo anno ma quello della Juve che ha vinto lo scudetto per la quarta volta di fila. Sempre alla radio iberica Morata ha inoltre aggiunto come Chedira gli abbia chiesto molto della vecchia signora e si sia detto felice di aver firmato il contratto con i bianconeri. Infine ha anche speso parole al miele per Pogba definito uno dei migliori giocatori al mondo e con il quale lo stesso Morata vorrebbe giocare ancora alla Juventus nella prossima annata. Dichiarazioni quindi di un attaccante totalmente in antitesi con un possibile addio. Parole di uno che vuole giocare nuovamente la finale di Champions League con la casacca di bianconeri. Parliamo adesso di Inter. Roberto Mancini in un'intervista alla stampa ha specificato come si auguri ancora che Iaia Touré possa essere acquistato dai neroazzurri. Neroazzurri che intanto avrebbero proposto al Wolfsburg niente meno che il cartellino del loro capitano Ranocchia. Da capitano ha scaricato. Questo potrebbe essere il destino di Andrea Ranocchia. La notizia arriva direttamente dalla Germania. Il quotidiano Bild ha infatti dichiarato che il difensore centrale neroazzurro sarebbe stato offerto da intermediari in Bundesliga al Wolfsburg che detiene il cartellino di Perisic, uno degli obiettivi di Mancini. La società tedesca, arrivata seconda in campionato dietro al Bayern, l'anno prossimo disputerà la Champions League ma non è del tutto convinta che Ranocchia possa essere l'acquisto giusto. Arrivato all'Inter nel gennaio del 2011 per volere dell'allora tecnico Leonardo, il difensore Umbro non ha mai convinto appieno, finendo spesso fuori dall'undici titolare. L'addio era vicino già nel gennaio 2014 ma il passaggio a Borussia Dortmund sfumò in extremis. Ritrovata la fiducia di Walter Mazzarri, Ranocchia ha anche ottenuto la fascia da capitano dopo l'addio di Zanetti ed ha più volte giurato eterno amore all'Inter. La società però non lo ritiene incedibile e medita la sua cessione. Intanto i tifosi neroazzurri si divertono sui social network, ricordando gli errori del loro difensore nella sfida di Europa League proprio contro il Wolfsburg. E continuiamo a parlare di Inter, questo perché Iker Casillas potrebbe lasciare il Real Madrid e secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna il portiere della Roja potrebbe proprio emigrare in Italia o all'Inter o alla Roma. Iker Casillas potrebbe presto emigrare in Italia. Secondo i media spagnoli infatti l'estremo difensore del Real Madrid serve pronto a lasciare la casa blanca dal momento che in arrivo a Valdebebas ci sarebbe David De Gea, l'attuale portiere del Manchester United, pronto a difendere da titolare la porta delle Merengues nella prossima stagione. Casillas quindi potrebbe firmare con l'Inter nel caso non venisse trovato l'accordo con Samir Andanovic per il rinnovo del contratto con lo sloveno che quindi lascerebbe la benamata per la Premier League o proprio per la Roma. In caso invece di firma dello stesso Andanovic con l'Inter allora Sabatini potrebbe puntare forte sullo stesso Casillas in cerca di una nuova e stimolante avventura dopo le altalenanti stagioni di questi ultimi anni al Real Madrid. E davvero la prodo di Iker Casillas in Italia sarebbe clamoroso così come il possibile acquisto da parte del Palermo di Osvaldo. Idea Osvaldo per il Palermo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i Rosanero sarebbero disposti a spendere fino a 10 milioni di euro per l'attaccante italo-argentino che a gennaio ha lasciato dopo appena sei mesi l'Inter per tornare in Argentina al Boca Juniors. Affare comunque molto difficile per l'ingaggio che percepisce il calciatore. Portieri con l'addio di Uicani, il Palermo secondo quanto si legge su tutto mercato web avrebbe individuato il giovane portiere da affiancare a Stefano Sorrentino dalla prossima stagione sportiva. Si tratta di Alberto Brignoli classe 1991, giocatore di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Ternana. Brignoli che ha una valutazione di circa 2 milioni e mezzo di euro. Quest'anno ha disputato 15 presenze subendo 11 gol ma da più parti è indicato come uno dei più promettenti portieri della cantera italiana. Non sarà facile però per il Rosanero strapparlo alla vecchia signora vista anche la forte concorrenza di Lazio, Fiorentina e Genua. Nei prossimi giorni summit di mercato tra Zampanili, Iachin e Gerolin. E dal calciomercato dei giocatori a quello dei tecnici Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Napoli. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Napoli. L'ex tecnico dell'Empoli ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo e quindi avrà l'occasione della vita quella di dimostrare la sua bravura e che il proprio credo possa essere riproposto anche in una big del calcio italiano in una piazza così difficile ed importante come quella partenopea. L'ex bancario che tra l'altro è nato proprio a Napoli anche se Toscano d'adozione guadagnerà circa un milione e mezzo a stagione e ha battuto la concorrenza di Vincenzo Montella essendo stato personalmente scelto dal numero uno dei campani Aurelio De Laurentiis. Con tutta probabilità anche Mirko Valdifiori il centrocampista dell'Empoli allenato per l'appunto in questi anni da Sarri seguirà il suo mentore ed indosserà quindi La casacca degli azzurri in porta vicino il ritorno dello spagnolo Reina per la linea mediana Piace-Allan dell'Udinese corteggiato però anche dall'Inter di Roberto Mancini Infine Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Carpi dei Miracoli sostituirà invece Bigon passato all'Ellas Verona nel quadro dirigenziale dei partenopei Da Napoli a Roma Stefano Pioli ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio Si allunga il matrimonio calcistico tra Stefano Pioli e la Lazio Una notizia che era nell'aria ma che ora diventa ufficiale grazie al comunicato con il quale la società Bianco Celeste annuncia di aver prolungato il rapporto contrattuale con l'allenatore Stefano Pioli fino al 30 giugno 2017 La SS Lazio avrà l'opzione di prolungare ulteriormente il contratto del tecnico Pioli fino al 30 giugno 2018 Premiata così l'ottima stagione ottenuta dall'Emiliano al suo primo anno a Roma Arrivata a un passo da sollevare la Coppa Italia uscendo però sconfitte supplementari nella finale contro la Juventus Pioli si è rifatto conquistando il terzo posto che permetterà ai Bianco Celesti di giocarsi l'accesso al tabellone principale della Champions League nei preliminari di agosto Era dalla stagione 2006-2007 che la Lazio non arrivava così in alto in classifica All'epoca sulla panchina c'era Deglio Rossi che avrebbe poi chiuso l'esperienza a Roma due anni più tardi regalando allo Tito la sua prima Coppa Italia da presidente E da Pioli che ha rinomato il proprio contratto con la Lazio a Luis Enrique che ha fatto lo stesso ma con il Barcellona Luis Enrique sarà l'allenatore del Barcellona fino al 30 giugno del 2017 Il mister Asturiano ha infatti prolungato il proprio contratto in scadenza nel 2016 per una ulteriore stagione dissipando quindi tutti i dubbi legati al suo futuro L'ex tecnico della Roma quest'anno ha conquistato il triplete arrivando primo in campionato con due punti di vantaggio sul Real Madrid Di Carlo Ancelotti si è portato a casa la Coppa del Re triunfando nella finale al Camp Nou contro l'Atletic Bilbao per 3-1 e con lo stesso punteggio il suo Barça ha battuto la Juventus nella finalissima di Champions League a Berlino grazie alle reti di Rakitic, Suarez e del brasiliano Neymar Nella prossima stagione quindi Luis Enrique punterà a conquistare i sei titoli nelle competizioni in cui Blaugrana saranno impegnati oltre al campionato la Coppa Nazionale e alla Champions Messi e compagni proveranno perciò a vincere anche la Supercoppa Europea quella spagnola ed il mondiale per club E adesso una notizia che col calcio non c'entra assolutamente nulla José Mourinho non potrà guidare per i prossimi sei mesi questo perché gli è stata ritirata la patente Problemi con la giustizia per José Mourinho al manager del Chelsea è stata infatti ritirata la patente lo Special One oltre a non poter guidare per i prossimi sei mesi dovrà pure pagare un'ammenda di 910 sterline pari a circa 1250 euro Nel settembre del 2010 il bate di Setúbal secondo quanto riportato dal Daily Mirror sarebbe infatti sfrecciato con la sua vettura a Sarri nella periferia di Londra a 97 km orari 17 in più degli 80 consentiti Mourinho che si è dichiarato colpevole nella prima udienza ma non si è presentato davanti ai giudici britannici dovrà quindi farsi accompagnare dai suoi collaboratori o prendere i mezzi per recarsi al campo di allenamento del Chelsea per i prossimi sei mesi e chiudiamo con la Serie B andiamo insieme ad ascoltare le dichiarazioni del nuovo allenatore del Cesena Massimo Drago Mi è stata data questa grande opportunità perché ringrazio il direttore ringrazio il presidente che mi hanno voluto qua e spero di fare il meglio cercando di proporre un gioco sempre propositivo propositivo non vuol dire essere autolesionista perché a volte si parla giustamente di cifre ho letto come mia consuetudine quando mi è stata data l'opportunità di poter allenare il Cesena tante volte la rassegna stampa e ho visto che conoscete meglio Massimo Drago voi rispetto a quanto mi conosco io stesso quindi sicuramente ho tanta voglia di iniziare ho tanta voglia di voler far bene per cercare di ripagare la fiducia datami dalla società questa squadra deve avere l'ambizione l'ambizione di voler prevalere sull'avversario la voglia di voler prevalere contro una squadra si gioca 11 contro 11 e tante volte è uno scontro diretto contro il proprio avversario se hai la volontà e la forza di voler prevalere sul proprio avversario sicuramente hai più possibilità di vincere era ultimo contributo l'appuntamento con la nostra informazione sportiva per lunedì buon weekend a tutti il programma è stato presentato da Alcat Test Italia il test sulle intolleranze alimentari www.alcat.it